numero 5 padella per paella in acciaio smaltato prodotto adatto solo per fuoco a fiamma prodotta in spagna può essere utilizzata anche in forno maniglie rinforzate per una maggiore sicurezza durante la manipolazione ideale per sei porzioni a un diametro di 34 centimetri disponibile in diverse misure in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto su amazon numero 4 padella profonda per paella realizzata in acciaio smaltato antiaderente materiale di alta qualità peso appropriato per un uso continuo questa padella è dotata di maniglie forti per una buona presa bordi arrotondati a un diametro di 40 centimetri disponibile in diverse misure ottimo in descrizione trovi il link su amazon di questo prodotto numero 3 questa padella è realizzata in acciaio di alta qualità smaltata sia all'interno che all'esterno massima garanzia in termini di resistenza e durata misura 40 centimetri di diametro ideale per 9 porzioni non adatta a cucine ad induzione disponibile in diverse misure acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione numero 2 padella per paella in acciaio smaltato di ottima qualità a un diametro di 80 centimetri ideale per 40 porzioni la pentola è compatibile con forno cucina a gas a legna barbecue non è adatta a cucine ad induzione garcima è uno dei marchi più riconosciuti in spagna ottimo prodotto se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione numero 1 padella per paella in acciaio antiaderente a un diametro di 60 centimetri disponibile in diverse misure padella facile da pulire resistente ai graffi non adatta a cucina ad induzione ottimo prodotto per qualità prezzo se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione per aver guardato il link in descrizione per aver guardato il link in descrizione